Il mio saggio ha come obiettivo, come vi dicevo, sotto il profilo del metodo, quello di introdurre l'elemento filosofico e questo elemento filosofico farlo giocare come il rilevamento della dimensione dello spazio e della dimensione del tempo, dimensioni che agiscono, benché forse non perfettamente colte, che agiscono appunto nel rapporto fra committenza e progettazione. Cominciavo, il punto 1 era una sorta di riassunto del vostro paper. In questo riassunto io mettevo in evidenza che Speer può essere interpretato come un punto oppure, se vogliamo, una linea molto breve, cioè il rapporto fra la committenza politica e il progettista, in questo caso è un rapporto strettissimo, i due sono vicinissimi. Mentre invece il vostro, la vostra narrazione, della vostra vicenda, della vostra progettazione è, è parso di capire, un labirinto, una peripezia, non un punto né un breve segmento. Dunque, concludevo il primo paragrafo del mio paper con l'idea che esiste una questione del progetto, cioè se il progetto è il rapporto tra pensare e fare, perché è questo che sta nel concetto di progetto, il rapporto tra pensare e fare. Questo rapporto si presenta come una mediazione semplice in un caso e come una mediazione complessa nell'altro, tanto che si potrebbe dire che fra le due fattispecie non c'è rapporto, sono due fattispecie talmente distanti. Sper che ha a che fare con Hitler, voi che avete a che fare con l'amministrazione, con parecchie istanze burocratiche torinesi, francamente sembrerebbe che non ci sia rapporto. Allora, il paragrafo due del mio testo affronta la questione del progetto, cioè del rapporto tra fare e pensare, tra pensare e fare, scegliendo fra possibili linee interpretative. Mi dicevo, c'è quella che enfatizza il ruolo creativo del soggetto, del committente o dell'architetto insomma, come una figura eroica e costruttivistica. Si potrebbe invece scegliere un altro approccio, l'approccio più attento al momento dell'esecuzione pratica, nella quale esecuzione pratica emergono contingenze che poi non sono molto contingenti, cioè emergerebbe, se noi andassimo a ragionare su questa via, emergerebbe il condizionamento economico del progetto e dunque questa via sarebbe una via critica della progettualità utilizzandosi come critica la critica dell'economia politica, se vogliamo dire così. Una terza ipotesi per analizzare il rapporto tra fare e pensare è quella, come io dicevo, relazionale, cioè si tratta di capire in che rapporto sta a il progetto, in quale relazione il progetto intrattiene con le due categorie trascendentali del fare e del pensare, cioè il tempo e lo spazio. Allora, il rapporto potere e sapere dal punto di vista del tempo è l'oggetto principale del secondo paragrafo. Ripeto, questo significa sottoporre a critica filosofica la nozione di progetto, cioè la relazione tra fare e pensare, tentando di far emergere la struttura di questa relazione utilizzando la categoria di tempo. poiché abbiamo parlato di Sper e di voi, dunque non abbiamo parlato del Partenone e neanche del Colosseo e neanche dell'uomo di Modena, cioè abbiamo parlato di un progettare sostanzialmente moderno, nel caso specifico sarebbe tardo moderno. Il tempo, e qui c'è una lettura dietro, c'è una chiave interpretativa fondamentale, il tempo moderno è decifrabile attraverso la nozione di teologia politica, che può essere piegata a significare molte cose. Allora, per quanto riguarda questa nozione, io non posso non rimandare al secondo capitolo di un mio libro dell'anno scorso che si intitola Forme della critica, da cui emerge che tra le molte accezioni del termine teologia politica, per me la più importante, la più ricca epistemologicamente, è quella che fa della teologia politica lo strumento grazie al quale si scopre la struttura metafisica dell'epoca e si adopera la parola epoca per indicare un tempo sospeso, cioè un tempo che ha in sé la propria legge, un tempo che si pone come tempo autonomo e che ha una propria dinamica temporale interna. Come fa e perché? Che cosa significa che l'età moderna è un'epoca in cui il tempo si pone come tempo autonomo in sé chiuso? Da dove lo possiamo evincere? Che cosa significa? Allora, io personalmente lo evinco dal terzo libro del Leviatano, dove il grande filosofo della ragione politica moderna, Hobbes, spiega che la ragione politica moderna ha senso soltanto se si rienterpreta il tempo sacro, il tempo cristiano e lo si dilata fra due colonne d'Ercole. La prima, quella che allontana per sempre la divinità, ogni traccia di sacro da questo mondo. Questo è in realtà un processo, comincia con Saul e finisce con l'ascensione in cielo di Gesù. Dopo questo atto non c'è più alcun rapporto fra cielo e terra. E l'altra colonna d'Ercole è la promessa cristiana del ritorno di Gesù sulla terra nel regno millenario che precederà il giudizio universale. Come si vede, in questo modo si apre un bel tratto di tempo il cui inizio è più o meno noto, il cui termine è completamente ignoto, e in questo tratto di tempo abbiamo un tempo vuoto, un tempo vuoto di sostanze, perché dire sacro e dire sostanze è la stessa cosa, vuoto di fondamento, vuoto di essere, che possiamo definirlo come tempo dell'attesa, è un tempo che si determina, è al tempo stesso, è contemporaneamente, è un tempo privo di sostanza e determinato dalla sostanza nel modo dell'assenza. Non è un tempo banalmente privo di sacralità, è un tempo privo di sacralità, cosa che è importante, perché questo essere privo di sacralità nasce dal fatto che la sacralità si è ritirata. Questa è teologia politica, leggere la modernità non come un tratto banale di storia qualunque, uguale al Medioevo, uguale all'Antichità, no, leggere la modernità non come un pezzo del percorso umano qualitativamente analogo agli altri e nel caso specifico vuoto, cioè in cui la sostanza è secolarizzata, ma leggere nella secolarizzazione la pretesa dell'abbandono del sacro pretesa che non si realizza mai. Il sacro è presente anche nella sua assenza, cosa non difficile da concepire, il che vuol dire che la scomparsa del sacro, la scomparsa della sostanza, la scomparsa dell'essere, la scomparsa di Dio, tutto ciò non toglie che i modi di funzionamento dell'epoca non siano sostanzialmente analoghi ai modi di funzionamento dell'epoca in cui il tempo era tempo sacro, cioè anche l'epoca moderna, pur vuota di essere, funziona in modo metafisico, cioè funziona avendo una idea di centro, avendo un'idea di relazione fra il centro e la periferia, avendo un'idea di centralità di qualche cosa rispetto a qualche cosa d'altro. La differenza è che la centralità qui è evidentemente quella del soggetto, che il tempo è un tempo in cui può capitare di tutto. Primo, perché è un tempo dequalificato, è il tempo dell'attesa, e secondo, è un tempo in cui noi ci immaginiamo, ecco, che si possa scorgere un movimento progressivo, lineare progressivo, cioè, vedete, siamo davanti a un'inversione del concetto, non è vero che il progresso è la misura di tutta la storia umana, il progresso è un'invenzione moderna ed è il modo attraverso il quale i moderni si immaginano che funzioni la storia. Cioè, è veramente rovesciato. Noi a chi dobbiamo questa interpretazione? Hobbes, Schmidt e Coselle, che è un allievo di Schmidt. E qui sono indicate alcune paia di testi, insomma. Allora, che cosa significa inoltre teologia politica? Che in questo tempo vuoto, reso possibile dal ritrarsi del sacro, che funziona ancora secondo le logiche della metafisica, il centro fondativo c'è, ma al tempo stesso non c'è, cioè c'è un centro sfondativo. Questo centro sfondativo, un centro che continua a funzionare come centro, ma non si fonda sull'essere. Ma si fonda sul contrario dell'essere, sull'assenza di essere. Questo centro che si fonda sopra il contrario dell'essere è la decisione. Ecco, l'epoca moderna è l'epoca in cui la struttura del tempo è una struttura fratta e discontinua, tutta segnata da decisioni. E il tempo stesso, contemporaneamente, l'epoca moderna è l'epoca in cui ci si immagina che il tempo sia, al contrario, un tempo lineare, progressivo. Voi vedete in che modo la teologia politica è sovversiva rispetto all'autointerpretazione del tempo moderno. Ma a parte questo, abbiamo una temporalità teologico-politica che significa che quello che si dà in virtù della dipendenza da un centro che è decisione, ovvero sia ciò che si dà, l'agire, è sostanzialmente sempre dequalificato, cioè sempre privo di legami organici qualitativi con l'essere. È un tempo in cui può succedere di tutto, è un tempo in cui si può fare di tutto. Allora, è un tempo che può essere immaginato come un tempo lineare, appunto la parola chiave è immaginato, può essere pensato come un tempo lineare, è un tempo che invece, in altre circostanze, può rivelare la propria insensatezza, cioè il proprio essere un labirinto. Ed ecco allora che i due esempi che ci avete portato, Sper e il vostro studio egitettonico, divergono, ma divergono come due modelli interni a un'unica coazione epocale. Là, in Sper c'è l'evidenza della grande decisione che in un epoca in cui può succedere di tutto, fa succedere una certa cosa e la fa succedere come gesto in un qualche modo infondato, cioè oggi decidiamo di fondare una nuova città, capitale del Grande Reich e la chiameremo Germania. Tutte possibili. Voi, a seguito di una serie di contingenze che portano determinati spazi egitettonici a essere degni di essere ristrutturati, attraverso un concorso, procedure democratiche e trasparenti, dribblando una serie di istanze che, ciascuna delle quali vi pone nuovi vincoli, arrivate a un progetto, perché ho capito, parecchio diverso da quello da cui eravate partiti. Il tutto sta a significare che questo è un altro modo di abitare il medesimo tempo. Il medesimo tempo caratterizzato, torno a dire, da assenza del sacro, da permanenza delle sue strutture di funzionamento, da esigenza che vi sia un centro di fondazione dell'azione, ma che al tempo stesso questo centro di fondazione non sia ontologicamente qualificato e quindi un centro sfondato che si chiama decisione. Questa decisione può essere una, una mega decisione, fondiamo Germania, oppure una serie innumerevole di decisioni. La prima è una decisione che accelera il tempo, no, sbrighiamoci, facciamo in fretta. La seconda è un insieme di decisioni che rallentano il tempo, fanno perdere tempo. Il tutto misurato all'interno di un cronometro che pensa il tempo come lo svolgersi dequalificato all'interno di un'epoca. L'altra caratteristica fondamentale grazie alla quale noi capiamo come funziona la categoria di tempo della modernità, è che questo tempo è un tempo dell'attesa, certo l'abbiamo detto, cioè è un tempo in cui il sacro non interviene, ma è un tempo straordinariamente indaffarato, è un tempo del fare, cioè non si attende, non si attende nel senso dell'aspettare chissà che cosa. E' il Novecento che coglie l'insensatezza di questa temporalità e la trasforma nell'aspettare Godot, cioè nell'aspettare non si sa che cosa. Ma tutta la modernità è proprio in quanto dequalificato, presenta un tempo che viene riempito di faccende, faccende pubbliche, faccende private, un tempo di affaccendate, che tradotto in linguaggio filosofico significa un tempo dequalificato è quello in cui il rapporto fra il pensare e il fare è un rapporto di mediazione immediata nel segno di una utilità. Allora, il rapporto tra pensare e fare come mediazione immediata nel segno dell'utilità è la tecnica. La tecnica come qualità dominante dell'agire è appaesabile esclusivamente nel tempo sospeso, nel tempo epocale, nell'epoca moderna. Se sei in presenza del sacro, non ti affiglia la tecnica. Se sei nell'assenza del sacro, ti affiglia la tecnica. Ed ecco quindi un ulteriore passaggio. In questo tempo, in questo tempo moderno, in questo tempo desacralizzato, in cui il sacro funziona soltanto attraverso le coazioni che lascia dietro di sé, in questo tempo è il tempo della azione per la potenza, cioè per sé stessa, per agire. Agire per agire. L'aveva detto Bacconi all'inizio della scienza moderna, scienza propter potenzia, ce lo dice Heidegger alla fine del periplo della modernità. lo possiamo definire il tempo della costruibilità. perché se ci pensate è soltanto in questo tempo che si può avere l'idea che ovunque e sempre si può e si deve costruire. Non a caso, sotto il profilo filosofico-politico, qui si entra all'interno di quello che si chiama, anche per criticarlo, ma insomma questo ci interessa meno, che si chiama il costruttivismo moderno. Cioè l'idea che l'esperienza umana, la vita dell'uomo, la vita associata degli esseri umani, consiste nel costruire, non nell'abitare il già dato, ma nel costruire. Costruirsi la casa, costruirsi un senso. Questo perché siamo esposti a un vuoto, a una kenosis, che è il vuoto del sacro. E al tempo stesso, mentre ci diciamo, mentre ci procuriamo un tempo, che è il tempo dell'azione per la potenza, che è il tempo della costruibilità, che è il tempo del progresso, al tempo stesso facciamo l'esperienza del fatto che, come vi dicevo, in questo tempo tutto è possibile. Ma tutto è possibile vuol dire che questo tempo in realtà è pieno di contingenza. Noi ce l'immaginiamo come il tempo della costruibilità, perché non troviamo nessuna sostanza, nessuna qualità che fermi il nostro agire, e va bene. Ma questo non trovare gli ostacoli al nostro agire, ostacoli qualitativi, non toglie che noi possiamo trovare infiniti ostacoli quantitativi, accidentali, empirici, e anzi, che la nostra epoca è piena di macerie, o comunque è piena di incianto. Come io qui nel mio paper facevo il paragone, che mi sembra calzante, con quello che trovava Clausewitz per quanto riguarda la guerra. Clausewitz ci dice che la guerra è sostanzialmente un duello la cui essenza è la volontà di impedire l'azione dell'avversario, che questa volontà di impedire l'azione... Dimmi. Scusa, ma il vice di Brunetti, il vice avvocato di Brunetti, ha accennato anche all'archiesta dei quesiti. Scusate, c'è stata un'interromissione. A un'interromissione. Ci vediamo qualcuno di... A chi ha lasciato il mio commento aperto di discutere. Proseguo. Prego, prego, professore, scusate. Allora, vi dicevo, Clausewitz ci spiega che la guerra ha in sé una logica, una logica lineare, appunto, progredisce. Progredisce secondo la propria essenza, che è porsi il fine di impedire l'azione all'avversario. Il modo più radicale per impedire l'azione all'avversario è ovviamente ucciderlo. E quindi la guerra può partire dalle scaramucce e secondo la propria logica arriva fino all'annichilimento della forza armata avversaria con un'ascesa lineare. Bene, questa ascesa lineare, questa ascesa agli estremi, la chiama lui, dice Clausewitz, beato lui, che pure aveva visto la guerra napoleonica, questo dice non succede mai, non succede mai perché, non necessariamente per volontà, per buona volontà dei contendenti, ma perché la guerra contiene in sé degli attriti, cioè ci sono le contingenze. Per cui noi abbiamo un fare, un agire che contiene in sé una coazione all'estremo e al tempo stesso abbiamo un fare, un agire che siccome si dà in un contesto epocale privo di senso, incontra continuamente blocchi di senso, cioè incontra continuamente istanze che disturbano e che fanno perdere tempo, che fanno perdere intensità alle dinamiche e che dopotutto fungono da catechon, cioè da ritardatore della ascesa agli estremi. Ora, il catechon, appunto, questo lo sappiamo bene, è interno a ciò che deve frenare, non è esterno. Allora, questo che cosa significa? Punto interrogativo. Perché da ciò, cioè dal fatto che abbiamo logiche del progresso metafisicamente condizionate, logiche del progresso che incontrano ostacoli, il pensiero dialettico e Hegel ha tratto la convinzione che la vicenda moderna, senza essere antimoderni, la vicenda moderna sia una vicenda non descrivebile come una linea, cioè un segmento per la precisione, una mediazione immediata fra il pensare e il fare, dove il pensare diventa anche un ordine, un dare e o. Ma sia descrivibile come qualche cosa di sinuoso, complesso, complicato, instabile, come lui lo definisce. L'andamento della ragione non è il progresso, ma è un corteo battico, dove sono tutti ubriani.